bravissima bravissima ok menti in avanti menti in avanti dai ok ok tranquilla facciamo arrivare bene la prossima che lo facciamo nascere cosa non senti più alessandra ti sto aiutando la prossima nasce tranquilla guardami a me tu ascolta quello che ti dico io ci siamo sei bravissima non ti sto dicendo niente perché fai le cose in maniera corretta ok perché sta la testina giu dai spingi ecco qua tanti auguri tanti auguri 54 è nato scusate per due minuti tanti auguri alessandra sei stata bravissima il parto è andato molto